Si frattura il polso e il 13 agosto viene rimbalzata fra Agropoli e Vallo della Lucania dopo ore ed ore di attesa per radiografia e ingessatura e dopo 25 giorni è costretta a togliere il gesso privatamente per la mancanza dell'ortopedico. Questo è quanto accaduto qualche giorno fa a Giovanna Voria, cittadina agropolesi e ambasciatrice della dieta mediterranea nel mondo, ma è solo l'ennesima prova dell'inefficienza dell'ospedale civile di Agropoli, riattivato in Pompamagna, soprattutto per quanto riguarda il reparto di radiologia H24 e mai realmente funzionante al 100%, ad oggi attivo H12 con la lettura dei referti telematicamente dal San Luca di Vallo della Lucania. Giovanna Voria sui social ha parlato della vicenda. L'ospedale di Agropoli dovrebbe assistere ai 22.000 abitanti, tutta la piana del Sede ed il Cilento. Solo fumo, nessuna politica né di destra né di sinistra è riuscita a dare ad un ospedale attrezzato con la giusta efficienza. Mi fratturo il polso il 13 agosto, vado all'ospedale di Agropoli, mi fanno la radiografia e mi mandano a Vallo perché ad Agropoli non c'era l'ortopedico, sottolinea Giovanna. L'ortopedico di Vallo, senza neanche vedere il polso, mi prescrive un tutore e dopo una settimana mi avrebbe messo il gesso. Ritorno il 14 ad Agropoli e per fortuna c'era l'ortopedico che mi mette il gesso. Dopo 25 giorni sono tornata per toglierlo, ma l'ortopedico non c'era e forse non viene più, quindi devo andare nuovamente a Vallo a togliere il gesso. Per evitare lunghe attese e la possibilità di non trovare l'ortopedico di turno, Giovanna Voria ha pensato bene di recarsi privatamente da un medico del posto per farsi togliere il gesso e risolvere velocemente la situazione. La domanda che ci poniamo e che si pone anche Giovanna è sempre la stessa. Che senso ha avere riaperto un ospedale quando non può funzionare realmente? Il racconto di Giovanna Voria non fa altro che aumentare le conferme di inefficienza riguardo le vere funzioni dell'ospedale civile agropolese, che dalla sua riapertura ha raccolto tantissime critiche e situazioni di disagio per i pazienti da assistere.